Assistenza domiciliare ai disabili gravissimi, Aspera e Dusea chiede feedback ai caregiver. A due mesi dall'avvio del nuovo sistema in regime di libera concorrenza tra le cooperative accreditate rogatrici del servizio di assistenza domiciliare integrata nel comprensione dell'Aspera di Siracusa, come previsto dall'assessorato regionale della salute, il commissario straordinario Caltagirone ha chiesto al direttore del Dipartimento Anselmo Madeddo di valutare in forma diretta attraverso i dirigenti delle professioni sanitarie dell'azienda e il grado di soddisfazione delle famiglie, dei caregiver, dei pazienti e destinatari dell'assistenza erogata con personale integrato sia delle cooperative che aziendale al procedimento assunto. Conoscere la qualità del servizio erogato e il suo gradimento dalla viva voce dei familiari, sottolinea Caltagirone, è fondamentale per testare quanto introdotto e poter apportare eventuali correttivi nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza domiciliare erogata. Il servizio, come è noto nella prima fase di sperimentazione delle nuove modalità di erogazione al regime di libera scelta degli utenti tra le cinque cooperative accreditate dall'assessorato regionale della salute e da noi contrattualizzati, abbiamo destinato ben 42 infermieri assunti ad hoc, ciò affinché l'azienda con proprio personale formato intervenisse per supportare le cooperative nell'emore dell'acquisizione da parte loro del numero di operatori sanitari congruo per le esigenze. Superata questa prima fase, prosegue il manager, ha i 42 infermieri dedicati, abbiamo chiesto l'eventuale disponibilità a prestare servizio oltre che nell'assistenza domiciliare integrata, per cui hanno fidelizzato con i nuclei familiari anche in altri servizi sanitari, nelle carceri e nelle centrali operative territoriali di recente attivazione senza far venire meno la disponibilità per l'ADI laddove necessarie, al fine di integrare ulteriormente il personale assunto per gli altri specifici servizi e alcuni di loro si sono resi disponibili. Il nostro obiettivo, conclude Caltagirone, è poter rispondere adeguatamente ai bisogni espressi dalla collettività. Per tale ragione è per me indispensabile conoscere il grado di soddisfazione degli utenti per poter apportare correttivi secondo le reali esigenze, eventuali chiaramente opportuno che mi vengano richieste direttamente e non attraverso i social che, se senza confronto con la fonte, possono creare disinformazione malcontento e motivato. Ai cittadini chiedo fiducia e confronto costruttivo, continuo nell'ottica della collaborazione costante da parte del territorio che ha il diritto e dovere di partecipare assieme a noi in tutti i processi migliorativi dell'organizzazione aziendale. Infine metterò a confronto quanto mi perverrà dai caregiver con quanto già ricevuto dagli operatori sanitari impegnati sul campo per il migliore equilibrio tra assistenza sanitaria e benessere dei lavoratori.